Il nostro cammello è un cammello speciale, quindi tutti questi anni che è stato insieme a noi gli abbiamo insegnato tante belle cose da fare, dovete sapere che è un cammello speciale perché riesce a fare tutte le cose immaginabili e possibili, anzi io direi di fare una piccola dimostrazione che dici, ok allora dovete sapere che il cammello carmello è l'unico cammello a un mondo che riesce a fare, vuol dire sapere, la capriola, facciamo vedere la capriola, ok? Però ha bisogno di pazienza, quindi facciamo sentire un bel... Un applauso al cammello carmello, vi ricordo che voi lo trovate anche sui social, lo stiamo pubblicizzando tantissimo, però non è che sta a fare solamente questo, sta a fare tantissime altre cose, che cose puntate... no ragazzi non gli darete troppa confidenza che se non gli si dà una mano, si prende l'unico in braccio, ok? Cammello vieni qua, facciamo vedere un'altra cosa, allora facciamo vedere adesso, andiamo sul palco perché il palco è importante, tutti li possono vedere, dovete sapere che lui ha speso 10.000 euro per una cadenia di tip-tap, quindi vi raccomando, vediamo se sei bravo, se sei speso i soldi, bene! Vai, 1, 2, 3, vai! Un applauso! Ma che bello, che bello, che bello, che bello! Allora vi stavo dicendo appunto che il nostro... abbiamo capito, abbiamo capito, abbiamo capito, è aumentato 300 euro, 300 euro di poterete un bel cammello... Vi abbiamo detto che il nostro cammello ha studiato in questa cadena, ma non ha studiato solamente di un tavolo, lui ha studiato anche recitazione con uno degli insegnanti più bravi al mondo e proprio per questo motivo vi faremo una dimostrazione, vi mostrerà come ha imparato a recitare, ma soprattutto come ha imparato a fare la morte di Shakespeare, ok? Sei pronto per far vedere come muore Shakespeare? Pronto? Facciamo vedere la morte di Shakespeare, vai! 1, 2, 3... Sei pronto? Oh! Questa è la morte di Shakespeare... 1, 2, 3... Bravo! Bravo! Ma che bravo! Mi ha scritto, è molto bello che si svolghi, non male che io non penso neanche un cinquismo... Basta, eh! Questa è la morte di Shakespeare... 1, 2, 3... Basta! 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 Abbiamo capito? Basta! Allora, abbiamo fatto la morte di Shakespeare, vogliamo far vedere qualcos'altro, è fatto anche danza in questa accademia, quindi facciamo vedere come è studiato danza classica, facciamo una bella pirouette, su su! Però aspetta, un applauso, un applauso che non... Lui è una prima donna e quindi vuole rende tolagiare, che vuole essere accetta, l'attenzione... Vai! 1, 2, 3... Vai, pirouette, bravo, bravo! Allora, se volete, adesso sono qui del sesce del plurale, il sesce del plurale è pergi fra tic-tap, recita e anche la pirouette... Bene, adesso, però, signore e signori è arrivato il momento del nostro numero più speciale, più particolare, perché dovete sapere che il nostro cammello si diventa fare anche delle acrobazie si diventa fare delle cose pericolosissime è uno sprezzante del pericolo quindi adesso vi faremo vedere tu sei pronto? comunque la faccio sicuro sei pronto? facciamo vedere come riesce a fare un triplo salto salto carpiato all'indietro con spirulato e diviso fratto due pronto? un triplo salto carpiato spirulato diviso due e vai bravo 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 ma questo è sicuramente il riscaldamento allora signori e signori riproveremo la stessa performance di prima ma adesso è una difficoltà perché nel fare il triplo salto carpiato il nostro cammello Carmelo troverà esatto una difficoltà un ostacolo che sarà proprio il nostro Luta quindi ti raccomando Luta concentrati tu guarda sempre avanti non ti distrarre sempre avanti perché se lo guardi ti si impaurisce ok senti fissa un punto l'obiettivo ok e allora prima di cominciare più sei pronto tesoro? ok e allora facciamo un altro applauso che se no anche per Luta stai spiando la vita stasera stasera con voi e allora voglio anche una ultima cosa il nostro cammello Carmelo farà un strimo salto carpiato con Luta davanti uno due tre vai che bello e si va che bello scusami Luta che bello che bello adesso si va bravando che bello che si torche no 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti Grazie a tutti